Giovedì 30 marzo, San Secondo, è l'89esimo giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 276 al termine, il sole sorge 6.55, tramonta le 19.36, la luna si leva alle 12.28, tramonta le 4.10. Viene costituita in corporazione l'arte dei pestrineri, cioè di venditori di latte, essa si ritrovava nella chiesa di San Matteo a Rialto, nell'altare dedicato a San Giuseppe. Le previsioni per domani, sulla pianura alternanza di nuvole rasserenamenti e sui monti nuvoloso. Ci saranno delle precipitazioni più probabilmente di pomeriggio e sopra l'asse Verona-Venezia, con quota neve intorno a 1600-1800 metri sulle Dolomiti e 1800-2000 metri sulle Prealpi. Temperature sulle pianure in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno, sui monti in calo.